Maggiore efficienza, maggiore disponibilità di dati e maggiore affidabilità. Plessibilità, controllo, efficienza e precisione. Belotti S.p.A. è un'azienda che produce macchine utensili, nello specifico centro di lavoro a controllo numerico a 3-5 assi. Belotti S.p.A. è meccatronica praticamente in tutto, dalla produzione fino ad arrivare alla parte commerciale. Oggi, grazie all'elettronica, noi possiamo anticipare dei tempi di usura di alcune parti, monitorando le ore di lavoro, anticipare eventuali fermi macchine che costerebbero tantissimo all'interno delle aziende. Di governare determinati dati e quindi di averli subito pronti e disponibili per poter poi dare delle implementazioni che portino ovviamente a delle efficienze, in questo caso produttive, ma anche di conseguenza economiche, a che sostanzialmente fa impresa. Nella nostra realtà, come in altre realtà, se si vuole fare elettronica, bisogna anche avere delle persone preparate. Il coinvolgimento poi di tutto il team è fondamentale. Con il vantaggio di avere dei dati condivisi senza doverli raccogliere personalmente. C'è una sorta di interconnessione informatica di tutti i dati, in modo che tutti ne abbiano accesso e ne abbiano la possibilità, secondo il proprio ruolo, di gestirli al meglio. Le nuove generazioni hanno un approccio diverso per quanto riguarda la meccatronica. Sono molto più portati, forse anche per l'utilizzo di tutti i sistemi di comunicazione che oggi usiamo. Tutti danno il loro contributo, chi appunto nella parte meccanica, chi in quella elettronica, proprio per arrivare a raggiungere la soddisfazione del cliente.